E' un fiume notturno. Sono in cima alla colina di Ciola. Le lucine che vede là dietro Si, state attento. E tutto questo qua è il mare di là. Io lo faccio in silenzio. Mi prego per tutti che senta questa energia, questo spirito. Lo mando a tutti quanti. Non mi figli soprattutto che senta questo. Mi voglio tutti bene. Tanto bene. E' una maraviglia. E' la tenda. Dove oggi ho fatto un quadro. La mia candela. Qui tutto da solo con Tom. Dove è Tom? E' lì. Lo vedete? Quasi non si vede. Ah, Tom? Tom guarda qua. Eccole le due ombre che sparì. Pace a tutto il mondo. Che l'uomo ci pensi. E che venga su ogni tanto, ogni uno di voi, a vedere che cosa che avete bisogno di proteggere. Non sono le ricche che proteggeranno questo posto. Alla prossima. Ok. Grazie a tutti.